Un gesto fondamentale sul quale però vigono pregiudizi, disinformazione e paure infondate che troppo spesso fungono da deterrente, eppure in alcuni casi la donazione di Midollo Osseo è l'unica possibilità di salvare una vita. Per questo Fondazione Potenza Futura e Basilia Basket sono scese in campo, organizzando presso l'Auditorium Futura insieme alla Domos, l'Associazione Donatori di Midollo Osseo, un incontro di sensibilizzazione sul tema, durante il quale è stato spiegato come funziona la donazione di Midollo Osseo, una pratica che nel corso degli anni è diventata sempre più semplice, come si diventa donatori e quanto è importante dare il proprio contributo, perché troppo spesso ci si dimentica che la malattia può colpire tutti, anche i più giovani, e che la vita è troppo preziosa per non donare. Il dono del Midollo salva la vita di una persona. È un gesto fondamentale su cui ci sono molti pregiudizi, ci sono molte paure infondate, c'è molta disinformazione purtroppo, noi siamo qui proprio per fornire informazioni corrette e precise e soprattutto per eliminare i dubbi, le incertezze, le paure che le persone hanno quando si avvicinano alla donazione del Midollo Osseo, che oggi è diventata un gesto molto più semplice, molto meno invasivo, che ciascuno di noi può fare in assoluta sicurezza. Un incontro che ha contribuito a sfatare falsi miti e convinzioni anche attraverso testimonianze e che ha confermato il ruolo sociale dello sport. Noi siamo sempre vicini ai problemi sociali, perché lo sport è anche questo. Lo sport allarga un po' gli orizzonti su tutto quanto è il tessuto sociale, per cui è giusto che noi, come sportivi, riusciamo a sostenere queste iniziative, anche perché sono iniziative importanti, dove non si parla spesso, dove ci sono ancora dei tabù. E se la strada da fare è ancora tanta, allora la sensibilizzazione al dono, non solo del Midollo Osseo, diventa fondamentale e l'impegno della Fondazione Potenza Futura al fianco della Domos non finisce qui. Siamo qui ad ospitare la Domos insieme alla Basilia Basket per sensibilizzare appunto su una tematica importante che è quella della donazione del Midollo Osseo. Abbiamo appreso questa sera di essere completamente disinformati in merito anche sulla donazione del cordone umbellicale, che resta ancora un qualcosa su cui dover investire maggiormente, dover comunicare in maniera più capillare la possibilità appunto di fare questo atto importantissimo per salvare una vita. Ci fa piacere ospitare nel nostro auditorium iniziative di questo tipo, ci farà ancora più piacere ospitare la Domos all'interno della partita che ci sarà domenica allo Stadio Viviani. Quindi ancora una volta si potrà lanciare un messaggio di sensibilizzazione in questo campo.